Un'importante notizia giunge dal Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca, capogruppo del gruppo bancario a cui appartiene la Banca Montepruno. È stato infatti deliberato lo stanziamento di un rilevante plafond finalizzato a dare sostegno alle imprese che accederanno agli interventi del PNRR. Il plafond di ben un miliardo di euro sarà utilizzabile nell'arco di cinque anni per l'attività creditizia a sostegno delle iniziative e delle imprese nell'ambito del PNRR e resilienza. L'annuncio è stato accolto con grande favore dalla Banca Montepruno in quanto si tratta di un progetto che guarda avanti e punta immediatamente ad essere competitivi sul mercato e presenti su una tematica di forte impatto economico. Proprio per questo Cassa Centrale ha sottolineato come l'iniziativa si inserisce nelle attività che il gruppo svolge per promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile dei luoghi in cui è presente tramite le BCC e favorire il coinvolgimento, la partecipazione attiva e la rappresentatività delle varie aree geografiche. Il miliardo di euro stanziato determinerà effetti benefici sui territori delle BCC del gruppo, che con le risorse a disposizione potranno sostenere imprese e amministrazioni locali, proseguendo nel loro compito di connettori di energia e creatori di sviluppo. Siamo entusiasti, ha sottolineato il direttore generale della Banca Montepruno Michele Albanese dell'annuncio del CDA della nostra capogruppo. Le parole della D. Mario Sartori sono di grande visione per chi anticipano i temi e puntano a far sì che il gruppo e le nostre banche siano ancora una volta protagonisti in piena coerenza con i principi e i valori che da sempre contraddistinguono la cooperazione mutualistica di credito. La sfida del PNRR impone grande impegno e attività di grande professionalità verso le imprese e gli enti pubblici. Altro importante ambito a cui sono rivolte queste misure, con interventi di ampio interesse per tutte le comunità. Daremo il nostro contributo e siamo già al lavoro per promuovere degli incontri presso la nostra sede, sia con imprese sia con i responsabili degli enti pubblici interessati. Grazie al supporto della capogruppo far sì che il nostro territorio possa beneficiare della competenza e della volontà di Cassa Centrale, e di cavalcare questo filone che ritengo sia la più importante sfida per tutti noi che amiamo la nostra terra.